Ragazzi guardate qua cos'ho qui con me, il flyer ufficiale dell'inaugurazione del sabato notte del Gilda di Castelletto Ticino in provincia di Novara un locale che ormai conoscete benissimo non solo per la sua fama ma anche per le telecamere di Gilda TV sabato 6 ottobre, quindi tra qualche giorno, avrete l'occasione di vedere all'opera anche i DJ di Disco Radio Walter Pizzulli, Matteo Epis, Edo Munari e chiaramente anche i DJ resident del Gilda noi vi aspettiamo ma soprattutto, fatemelo dire, aspettiamo le donne, non per altro ma perché sulla bacheca della discoteca Gilda su Facebook avrete la possibilità di scoprire una grande sorpresa quindi andate su Facebook, Discoteca Gilda, prendete la vostra sorpresa davvero molto molto bella e sabato prossimo, il 6 ottobre, vi aspettiamo qua, non mancate eh!